voglio raccontarti una delle tante storie che ho raccolto nel mio libro vi farò pescatori di uomini will smith il noto attore americano racconta questa storia che quando era piccolo il papà ordinò a lui a suo fratello di ricostruire un muro vicino casa loro il papà abbatté il muro e ordinò ai ragazzi ricostruitelo willy immediatamente disse ma è impossibile e il papà gli disse nulla è impossibile i due ragazzi impiegarono più di un anno a mettere mattone sopra mattone e a ricostruire il muro quando terminarono la loro impresa il papà ricordò a willy e a suo fratello vedete ogni cosa è possibile è questione soltanto di tempo cosa voglio dirti con questa storia di non porre limite alcuno c'è una storia simile che raccontano ancora i cinesi puoi spostare una montagna con un cucchiaio soltanto sì caro amico anche una montagna è fatta di terra cucchiaio dopo cucchiaio e se preferisci cucchiaino dopo cucchiaino anche una montagna può spostarsi quindi forza e coraggio cucchiaio o mattone tutto è possibile